Una firma per migliorare la qualità dell'aria in Toscana. Il presidente della Regione, Enrico Rossi, e il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, hanno siglato un accordo per azioni mirate contro l'inquinamento, con priorità per la Piana di Lucca e la Piana di Firenze, Prato e Pistoia. Le risorse messe in campo sono 5 milioni, 4 dal Ministero e 1 milione dalla Regione. A questo intervento noi mettiamo, come dicevo, altri 5 milioni di fondi europei che andranno a bando per le piantumazioni, quindi già sono 10 milioni. Più ci stiamo predisponendo per attingere ad altre partite, ad altri fondi nazionali che sono stati messi con la finanziaria, sempre finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria. Dopo aver firmato il protocollo con il ministro, l'accordo di programma con il ministro, parlerò subito con il presidente della provincia di Lucca e poi con il Comune di Firenze, con il sindaco per concertare gli interventi. Sono molto contento di firmare questo accordo perché noi non dimentichiamo alcuni argomenti strutturali. Noi siamo in infrazione europea per la scarsa qualità dell'aria in alcune zone d'Italia. Ovviamente non parliamo solamente di alcune zone toscane, ma parliamo anche di zone a nord come zone a sud. Quindi l'Italia ha questo problema. Però questo è un problema che da soli non si risolve se non si fa squadra. Ecco, oggi abbiamo fatto squadra qui in Toscana. Le azioni saranno rivolte sia per ridurre il biossido di azoto, che interessa Firenze, che per ridurre il PM10. Per quanto riguarda il biossido di azoto si interverrà sulla viabilità limitando il traffico. Per ridurre il PM10 l'accordo prevede contributi per le famiglie per sostituire impianti di riscaldamento a biomassa con impianti di condizionamento, l'erogazione di contributi a piccole aziende agricole e cittadini titolari di coltivazione arboree nelle aree di superamento per l'acquisto di biotrituratori per la gestione di sfalce e potature.